Non è facilissimo. Alexander Yachnajiev. Yachnajiev. Perfetto. Prego Alexander. Presidente, le volevo chiedere, l'ultima cosa che le ha detto Biden prima che noi uscissimo dalla sala ovale, perché non sono riuscito a capirlo, che l'ha fatta sorridere. E poi un suo commento personale, non da primo ministro, l'esperienza da underdog alla Casa Bianca. Grazie. Da underdog alla Casa Bianca. Ma guardi, non lo so, io di solito dico la verità, in questi momenti sono sempre abbastanza concentrata sull'obiettivo e quindi se qualcuno si aspetta che ti senti un po' come cenerentola, no, non c'è questo. Tanto sono consapevole della nazione che rappresento, del ruolo che ho. E sono concentrata su questo, per cui non c'è molto da dire su questo. Speravo che andasse bene, credo che sia andata molto bene e sono contenta di aver fatto, credo bene, il mio lavoro. L'ultima cosa che mi ha detto Biden prima che voi usciste, mi ha detto la prima volta che ti ho visto ho pensato di conoscerti da molto tempo. intanto c'erano le telecamere per cui si è sentito, altrimenti non lo racconterei probabilmente. E abbiamo scherzato un po' su questo, no, anche su, voi sapete che la signora Biden ha origini italiane per cui insomma ci sono anche dei legami anche lì. è pieno di Italia ovunque qui, è pieno di Italia ovunque, sono di italiani e di Italia. Gli affreschi di Brumidi alla Capitol Hill che si chiama Capitol Hill per celebrare il Tempio di Giove sul Campidoglio eccetera eccetera eccetera. e quindi insomma ci si sente un po' a casa propria anche se poi l'amore che loro hanno per l'Italia pur stando fuori dall'Italia delle volte sembra maggiore di quello che riusciamo a provare noi vivendola. E quindi ci fa ricordare che cosa è l'Italia agli occhi del mondo, no? Quello che noi spesso non vediamo forse perché siamo troppo abituati.